Quanto è importante per i vini marchigiani essere in mostra in questo posto? Tantissimo, perché il mercato italiano per il vino marchigiano resta il primo mercato. Perciò noi è qualcosa che dobbiamo recuperare, anche se la quantità quotidiana di consumo del vino sta scendendo in Italia, noi dobbiamo recuperare questo utilizzo del mercato italiano, perciò ci siamo adoperati fortissimamente per portare qui non solo le aziende che già ci sono a sostenerle, ma inserire le nuove realtà. Tutto questo è importante perché questa vetrina internazionale oggi ci consente di dare maggiore sviluppo ai nostri prodotti, in modo particolare per elevare le aziende dal punto di vista di esportazione dei propri prodotti. Questo è importante e noi lo faremo sempre di più perché il vino resta uno dei fattori importanti tra i nati della nostra economia. Questo ci fa solo che piacere, il Verdiccio è oggi il primo vino bianco d'Italia, l'abbiamo oramai conclamato da tutte le parti, il Verdicchio resta il nostro ambasciatore nel mondo. Non dobbiamo essere gelosi di avere questo grande ambasciatore perché il vino da solo non va da nessuna parte, però il vino è abbinato alle bellezze storiche architettoniche, alle nostre città, ai nostre colline bellissime, al nostro mare o meglio anche a tutto quello che rappresenta le marche, Urbino, Acqualagna, Porto Novo, Macerata, Ascoli Piceno, tutti insieme per vincere la sfida della globalizzazione, insieme nel brand e marche.